Ciao a tutti Slyers e benvenuti su questo nuovo video di Sly21, oggi ci troviamo nuovamente su Brawl Stars ragazzi a basso il gol vnube perchè è un casino e siamo venuti per una puntata speciale ragazzi perchè alla fine del video, dopo che faremo le nostre famosissime partite di sette di power con GX Sasha andremo a provare questo ragazzo ho lasciato apposta i punti di potenzialmente ragazzi per provarlo, lo potenzieremo, tutto una sorpresa nel frattempo si parte immediatamente, si parte, dai ragazzi oggi non abbiamo con noi este l'arma, mi raccomando vi lascio il link in descrizione per iscrivermi mi raccomando ragazzi, sostenetelo, sostenetelo veramente ragazzi, ve lo sto chiedendo veramente per favore allora nel frattempo vediamo gli avversari, un Colt, un Colt è fortissimo in questa mappa gli avversari sembrano piuttosto facilini, l'importante è non farsi colpire da Penny perchè Penny è un vero devasto se ti fai colpire, allora io devo piazzare delle bombe a loro che li blocchino allora Colt c'ha la ulti, sta per sbloccare mi sa il passaggio raga eh, lo sapevo raga vabbè, la ulti aspettate la piazza dove spawnano loro qui ok raga nooo, lo sapeva lo sapeva, lo sapeva, lo sapeva nel frattempo Jigsash è stato tirato giù ci prova Rosa allora piazza altre bombe qui eh, non riusciamo a colpire ragazzi, non riusciamo a colpire veramente sto pensando di prendere, oh ragazzi, un Brawler tipo Brock perchè se no non ce la facciamo non ce la facciamo ragazzi è tosta sì è tostissima vabbè questa è una delle mappe che odio di più mi hanno tirato giù nel frattempo a me non abbiamo colpito ancora ragazzi io direi di piazzare il gadget qui grandissimo Dynamike nel frattempo vedo una Rosalinda che si sta avvicinando piazzo delle bombettine tattiche no questa ro... no ragazzi no, 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 non ci siamo, non ci siamo capiti allora allora eh, niente raga, niente, niente, niente niente buona comunque ma boh, sappiamo che non va non va, non va, non va, non va pegni ragazzi, si va su pegni si va su pegni si va su pegni eccoci qui ragazzi nel caricamento della seconda partita e siamo pronti per la seconda sfida tostissima il nostro team è più che buono ragazzi ma è tutto da vedere Dynamike nel frattempo è in difesa io e Giksha no ecco, Dynamike non è più in difesa io e Giksha in attacco eh, ok eccoci hanno aperto subito il portale eh, no ragazzi, questi ci sfondano dove si riesce, si sfondano allora, il 65% è già la nostra torre subito, così, dal nulla nel frattempo noi ci allarghiamo per un energetic tosto eh, no niente raga niente, anche questa la prevedo persa persa brutalmente tra l'altro ragazzi non è giornata oggi non è giornata non è veramente giornata eh, no raga è ulti su ulti la loro tattica allora in difesa c'è la mia torretta ragazzi cosa Cristo era io ce sto a provare a gama niente di niente provo in difesa ragazzi ma la vedo tostissima io cerco di avanzare nel frattempo piazzo direttamente la no no, mi hanno tirato giù la torretta raga allora, noi stiamo attaccando nel frattempo lo stesso niente, 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 niente raga persa ulti di lui ulti di lei e siamo tutti gay come si dice, no? tostissima raga tostissima, no? non so chi usare chi usare chi usare io userei Brock ragazzi è l'ultima occasione no, veramente questa è la sete di potere peggiore che abbiamo mai fatto sconfitte cioè proprio non riusciamo ad attaccare non lo so ragazzi sarà che ci manca Estelar? non si sa non si sa lo saluto comunque se sta guardando questo video ciao Estelar e ti dico che mi sei mancato anzi che mi manchi no ragazzi no oppa là colpito ah non mi serviva il mega bombone a me qui allora io ce l'ho fatta vado di ulti vado di ulti vado di ulti scaricata perfetto abbiamo un un bo in difesa eccezionale ragazzi c'ho un'altra ulti questa la prevedo buonissima e vado di un'altra ulti mamma mia gli ho tolto 10% ecco nel frattempo noi ci siamo difesi alla grandissima Jigsash tirato giù tirato giù si ecco grandissimo Jigsash in difesa non ci hanno ancora attaccato la porta ragazzi ma io prevedo un tocco c'è c'è stato si nel frattempo andiamo di nuovo di ulti ragazzi stiamo vincendo solo di ulti nel frattempo nel frattempo qui lo stesso andiamo così perfetto mi hanno tirato giù ma io ho difeso alla grande Jigsash dovrebbe cercare di salire nel frattempo in difesa ci potrei rimanere ma non so per quanto vado di un'altra ulti ragazzi ce lo carica prontissimo non si sa non si sa se ce la farò vado di ulti vado di ulti no mi ha spazzato la ulti ragazzi 6% si attacca grandissimo Jigsash grandissimo una vinta schiacciante pure schiacciante pure come ragazzi vi avevo promesso andiamo a usare il nostro bro ma prima una cassetta enorme una cassetta enorme proprio per digerire diciamo una sconfitta eccola primi vediamo no ci dai punti per Edgar in effetti ragazzi ci dai punti per Edgar bene partiamo con una partita la facciamo con Jigsash in survival e andiamo ad usare il nostro Edgar lo potenziamo immediatamente perché ci serve ragazzi forte forte più che mai bene subito a livello 6 perfetto perfetto perfettissimo sopravvivenza in due si parte ragazzi non si sa non si sa cosa accadrà ma io prevedo che questo brawler abbia rotto completamente il gioco ok perfetto mamma mia ragazzi guardate i danni guardate i danni io dico che questa Anita la tiro giù come niente mamma mia ragazzi ma che ragazzi che cos'è questo brawler questo brawler è tipo amber che ha rovinato il gioco ragazzi la prevedo tosta ma questo brawler ha dei pugni che sono una fava eh no mi hanno tirato giù mi hanno tirato giù ma buonissimo comunque guardate Jigsasha sta facendo dei danni eccezionali nel frattempo deve stare attento perfettissimo perfetto perfetto allora come avete visto dai danni sono dei danni curativi quindi le permettono di curarsi nel frattempo noi cerchiamo di prenderci i punti i punti noi cerchiamo di prenderci i punti i punti i punti i punti ragazzi no no è un fury class nel frattempo Jigsasha ha fatto dei grossi danni noi nel frattempo vediamo di allora l'ulti si carica veramente lentamente applaudi per Jigsasha grandissimo ragazzi cosa dire questo brawler è devastante veramente è devastante ragazzi ne facciamo un'ultima per chiudere e poi c'è stop l'inche ragazzi finale c'è stop l'inche by Jigsasha allora vedremo di fare una telecronica migliore yellow allora andiamo di danni di danni poni ti tiro i pugni in faccia guarda fa ah si doppio colpo infatti dice non è come il primo che tira tipo 4 o 5 colpi ne tira 2 solamente 2 noi nel frattempo ci hanno tirato giuro ragazzi dobbiamo stare attenti Jigsasha grandissimo piazza subito la torretta no niente 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 vabbè la rifacciamo la rifacciamo ragazzi la rifacciamo eccoci qui ragazzi ultima partita una cassetta dobbiamo giocare bene perché è un brawler bassissimo ma sto giocando con Jigsasha che ce l'ha alta mamma mia quanto ho rischiato grandissimo Jigsasha grandissimo 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 ci prendiamo i nostri puntini allora se mi si ricarica la ulti sarei veramente lieto a Gesù per questa opportunità nel frattempo noi ci allarghiamo piano piano cerchiamo di fare veramente poco e niente no mi ha dribblato e vabbè no aveva il succhetto aveva il succhetto occhio Jigsasha sei secondi deve resistere in modo che io lo salvi niente ragazzi ma credo che i punti me li dia lo stesso per il quarto posto niente no vabbè lasciamo stare le partite ho capito che non è giornata oggi partiamo subito cassetta enorme ragazzi prima della chiusura eccola aprimi è nulla 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 ma ci rimane la nostra mega cassa ma questa la vedremo di aprire ragazzi la prossima volta eh volevate no stavo scherzando dai ragazzi ve l'apro ve l'apro perché è giusto così quindi ragazzi vai aprimi nulla punti però importantissimi per Edgar si ce lo portiamo subito al set ragazzi subito subito subitissimo oh due mappe sono aggiornate bene come dicevo ce lo portiamo subitissimo dico subitissimo al set bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando ringrazio Jake Sasha sostenete Estelar vi lascio il link in descrizione per iscrivervi al suo canale anche lui posterà dei video su brosstar su vari giochi io ragazzi vi saluto vi ringrazio mi raccomando like commento e iscrivetevi fate girare il canale che siamo a 70 iscritti ragazzi manca pochissimo accento conto su di voi ragazzi e noi come sempre ci becchiamo la prossima volta ciao